pelatine, come state? come state? come va? come va? vabbè ho messo una chat qua ecco stasera si gioca mortal kombat perchè è uscita la nuova espansione data che ho preso ai tempi la premium edition pagata anche insomma 40 50 euro un anno fa e non l'ho più toccato per un po' di mesi oh mi fa piacere mi fa piacere non ho aggiunto il proseguo della storia stasera ce lo giochiamo ma quindi ok la remote clicca su scusate ok ci siamo tac tac eccolo qua oh premi un tasto qualsiasi premiamo un laterale intanto direi che eh aggiornamento dati di gioco avvicino un po' il conquista gioca un'altra storia vai trailer di aftermath vediamo un attimo il trailer vai questo abbiamo fatto come acquista espansione? co cosa? come acquista espansione? nooo ma era gratis ma che cazzo dice? ce l'ho nel pass non ho capito non ho capito non ho capito sai che c'è qualcosa che non va? ma ce l'ho già ma nooo ma che merda ma cosa? nooo nooo ce l'ho nel pass cristo ma quando? ma quando? ma quando? minchia no 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 da quando si acquista? scusate ma si ma altri 50 euro ma girano il cazzo 40 c'ho la premium edition ma qualsiasi cosa futura sarà no dai non ci credo no no mi stanno prendendo per il culo mi stanno prendendo per il culo assolutamente no ma quando? ma quando? c'ho la premium ma eh aggiunge il carrello nooo 40 euro scusate scusate allora buonasera sinner e qua c'è qualcosa che non va ragazzi perchè la questa espansione deve essere e mo ci spostiamo io sinceramente spendere 40 euro porco zio e io avevo preso la premium super turbo minchi edition apposta col combat pack quello e si compra 40 euro? per cosa? due ore? no dai non non mi vanno le prese per il culo ragazzi nooo ho letto dei commenti ah no ah no non è gratuito no no a me non vanno le prese per il culo ma proprio ma io ti dico il si ma raga veramente nooo sono rimasto non di merda di più e ora dark souls 3 che credo vuoi dire ragazzi cioè 2 c se dai no non esiste non esiste ragazzi no no io io non ma cos'è cioè mortal kombat è cos'è diventato il fortnite del di cosa di combattimento ce l'hanno capito ma ma porca puttana ma non ci credo ma io non avevo volata mica sta cosa cioè 40 euro 40 euro sono bani per ha 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 anche se non so se aveva avviato il tre ma potremmo andare col primo perché no minchia raga non... come ci sono... no visto che Deanne Greco ce l'ha... ho detto boh non immaginassimo che mi avesse speso 40 euro per due o tre ore di storia no non mi sta bene... no 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 preso combat pack è tutto... ma infatti dai ma come mi giro al cazzo su dai non esiste ragazzi cioè io mi devo rompere... cioè... no no non ci... non esiste... non esiste ragazzi non esiste no no... io non ci sto... castello di lothry